Ragazzi, oggi finalmente parliamo dei pad della Lantec in legno. Due modelli in particolare, il pad da ginocchio, con cui puoi suonare ovunque, e il classico pad con la misura del rullante. Guardiamoli entrambi un attimo. Entrambi i pad non sono assolutamente con una base in PVC o MDF come molti pad, sono assolutamente in multistrato di betulla. Questo perché, in quanto azienda artigianale italiana, anche nelle cose più comuni e più piccole, Lantec cerca sempre di dare la qualità al 100%. Questo pad da 14, perfetto da appoggiare sul rullante o anche solo su un'asta da rullante, se uno non vuole avere il rullante e suonare solamente sul pad, ha una particolarità veramente bella. Rispetto a altri pad, la maniglia, che vi posso garantire è comoda, ed è tagliato nei lati. Questo perché non compromette assolutamente l'appoggio su un tamburo o su un'asta, come può essere quella del rullante, ma vi permette finalmente di poter portare un pad dentro a uno zaino. Quante volte volevamo il pad grosso perché ci dava soddisfazione suonare o fare il nostro warm-up su quello, e poi vai a infilarlo nello zaino e partono tutti i santi. Questo, ragazzi, nello zaino ci sta. In più, Lantec, proprio perché è un'azienda che cerca sempre di migliorarsi, anche con i consigli di noi endorser o comunque di chi crede nel prodotto, ha da pochi anni modificato la gomma. I primi pad Lantec, sia da ginocchio che normale, avevano la gomma classica nera, che aveva comunque una buona risposta, però un po' su richiesta nostra, diciamo, come necessità di batteristi, e un po' vedendo l'ondata gigantesca che ha avuto il Real Feel pad, forse uno dei più venduti, hanno modificato la gomma mettendone una, con questa sorta di rete pressofusa, che ha una risposta veramente meravigliosa. In più, essendo in betulla, ha un suono veramente bello. L'altra cosa, ovviamente, rispetto a un altro pad, che essendo la gomma più bassa di un altro pad, e anche la base, ha un volume un po' maggiore, ma vi posso garantire che ha una risposta veramente incredibile. Anche una gran bella dinamica. Lo posso appoggiare sul rullante. Tiriamo la cordiera. A me piace un casino. Fatto con gli stessi materiali, lo stesso pad in caociù e la base in betulla, troviamo il pad da ginocchio. Ragazzi, io con questo ci ho studiato ovunque. Sul divano, in bagno, davanti alla TV, ai Simpson, ai Griffin forse di più, sì, ai Griffin. In macchina, non guidavo io, eh. Prima dei concerti, quando la tua amorosa ti sta cazziando e te vuoi mandare il cervello in un'altra isola. Insomma, lo puoi veramente usare quando ti pare, proprio perché è piccolo, portatile, e soprattutto ha due barra tre cose veramente comode. La prima, come vedete, ha un suo bel laccio in velcro, che ti permette di metterlo sul ginocchio e legarlo intorno alla gamba. Sotto ha questi appoggi in gomma, comfort di brutto, buco per montarlo su un'asta, tipo un'asta da piatto, in modo da poterlo usare anche non sulla gamba, ma usato come un pad normalissimo. Altra cosa comodissima, spero che si veda dal video, qui sotto ha una sorta di barra che come vedete viene in obliquo, quindi da una parte più alta, da una parte più bassa. Questo perché? Perché io se sono uno che suona match, con rullante anche magari dritto, o anche inclinato verso di me, lo metto con la parte bassa verso di me, lo monto, tengo la gamba dritta adesso, e io trovo questa superficie o dritta o comunque un po' più verso di me. Ma se sono uno che studia con la traditional, o cui piace studiare con la traditional, lo giro, e lui prende la forma a discesa in avanti. E questo mi permette di essere più comodo con la traditional. Insomma, secondo me questo è uno di quei tool da avere sempre nello zaino, che tu sia in tour, che tu sia a fare lezione, ovunque sempre, anche a casa soprattutto, perché essendo più piccolo, e quindi un pelo più silenzioso di questo pad grande in legno qui, ti permette di allenarti quando e come vuoi. Ovviamente quasi sempre ragazzi, quando sono su questi pad, utilizzo anche a volte le bacchette normali, classiche, 5A sphere con cui sono dal vivo, ma il più delle volte mi alleno con le marching band. Parliamo di una bacchetta, che secondo me è la perfetta riproduzione delle bacchette da marching band, sia come bilanciamento, che come peso, e come sensazione. Ti permettono di allenare polsi, dita, ti fai mezz'ora su queste, vai con quelle normali, voli. Se questo video vi è piaciuto e vi sono piaciuti questi due meravigliosi prodotti Lantec, andate nella descrizione del video e trovate il link e i contatti proprio alla Lantec e al loro sito, e qualche link di negozi, a cui mi affido anche io, per la fornitura, da cui poter trovare tutti i prodotti Lantec. Per qualunque info, scrivetemi, commentate, noi siamo a totale disposizione. Ragazzi, il pad, mi raccomando, è una cosa importantissima per un batterista, e io questo, per quel che mi riguarda, posso chiamarlo il mio pad definitivo, ma questo, ragazzi, è di una comodità che non potete capire.